Hanno patteggiato due anni e due mesi di carcere i ricettatori coinvolti nell'operazione K.O. con la quale i carabinieri di Alba avevano sgominato una banda di pregiudicati che dopo anni di perquisizioni e controlli da parte delle forze dell'ordine si erano finti i carabinieri e i finanzieri per ripulire case di imprenditori e professionisti. Con falsi tesserini, mandati di perquisizione contraffatti e lampeggianti blu avevano messo a segno moltissimi colpi, 175 mila euro, il valore dell'area furtiva recuperata. Rendevano credibile il fatto che si trattasse veramente di carabinieri o finanzieri in borghese sceglievano le vittime fra facoltosi commercianti, imprenditori sapevano che in quelle abitazioni potevano trovare parecchia roba da portare via ed eseguivano queste perquisizioni. Le vittime soggiacevano a queste false perquisizioni consegnando tutti i loro averi e di volta in volta loro come scusa per eseguire questa perquisizione su delega di un magistrato dicevano sempre, magari in base alla professione della vittima paventavano delle illegalità commesse dalle vittime. 16 le persone arrestate, tra le quali due ritenuti ricettatori della banda Luca Italiano, 31 anni, di Garlasco e Giancarlo Bridio, 46, di Brescia. Il Tribunale di Alba, dopo due mesi di carcere, li ha condannati a oltre due anni a testa di reclusione, al pagamento di multe di 1.504 mila euro e alla restituzione del bottino.